A maggio, in occasione delle elezioni amministrative italiane, il Movimento 5 Stelle conquista una valanga di voti e il Comune di Parma. Beppe Grillo accetta di parlare in esclusiva su Euronews. A qualche settimana di distanza abbiamo deciso di mostrare altre parti di quel lungo incontro. Un'occasione per mostrare un Grillo più intimista e sconosciuto ai più, che si toglie parecchi sassolini dalle scarpe e si difende, a cominciare dall'accusa di essere il proprietario del logo 5 Stelle. Il diritto che logo è deve essere mio perché io sono a garanzia di chi entra. Se fosse lasciato al sistema, allo sbando, entrerebbe chiunque. Io controllo le fedine penali, controllo i certificati di residenza, perché chi vuole essere eletto deve essere residente nella città che vuole andare a amministrare. Perché tutti i partiti cosa fanno? Fanno eleggere uno in un posto dove non è conosciuto. Berlusconi è stato eletto in 61 seggi in Sicilia e Dell'Utri siciliano è stato eletto nella sezione 2 sotto la Madonnina Milano. Non è più possibile. Devi essere eletto dove ti conoscono. Non ti conosco. Io mi sono fidato dal fuoco amico che mi ha sempre causato più danni. Poi non sono danni, ma moralmente, da De Magistris, a Vendola, a Lalfano. Tutte persone per bene, che però avevano un'idea diversa della politica, cosa che non mi sono accorto. Io mi sono speso molto per queste persone. Ho consigliato dal punto di vista della comunicazione e abbiamo dimostrato che ogni volta che uno del Movimento 5 Stelle va lì, il Movimento perde dei voti. Perché è l'immagine, ti mettono vicino Gasparri, puoi dire tutte le verità del mondo che quando tu parli e inquadrano Gasparri vince la faccia di Gasparri. La televisione è immagine. Sono un megafono, sì, ma io sono il grande vecchio. Il leader è il Movimento, è il programma. Noi dobbiamo, per quella culturale, la gente deve cominciare a votare dei programmi, non delle persone. Le persone ci hanno portato alla catastrofe politica ed economica di questo Paese e di mezza Europa. Quindi dobbiamo cominciare a... la gente deve informarsi e non tradizionalmente verso i mezzi di informazione, televisioni e giornali che sono ormai seduti, non hanno neanche più argomenti. Dato che non hanno argomenti cadono sempre come linguaggio nel considerarti un partito, con leader, allora cosa fate? Le domande non hanno le parole perché non hanno il pensiero. Siamo di fronte a qualcosa che non è mai stata realizzata, c'è la democrazia dal basso, i cittadini che eleggono loro stessi, ma è fantastico. Abbiamo dimostrato che la politica si fa senza soldi, perché la politica sono i soldi e il nostro è un movimento senza soldi. È autofinanziato, ognuno si finanzia, ogni movimento, siamo partiti dai meetup. Io ho copiato Howard Dean negli Stati Uniti, che aveva aperto dei meetup, che erano questi centri amici di Howard Dean, che lui lo faceva per raccogliere fondi per diventare Presidente degli Stati Uniti. Noi abbiamo aperto questa piattaforma, si sono formati i primi cittadini nelle città, e i cittadini si trovavano in un bar, in una pizzeria attraverso questo social network, e discutevano dei problemi del traffico, l'inquinamento, l'acqua pubblica, il wifi libero e gratuito, la raccolta differenziata. Tutte queste cose, cominciavano i cittadini tra loro a informarsi, a parlare perlomeno. L'idea è stata il blog, aperto con Casaleggio, grande stratega della rete, forse il più grande che c'è oggi in Italia. Ci siamo trovati immediatamente come mentalità di fare qualcosa per il bene di questa nazione, che la vedevamo andare in rovina, ci siamo messi insieme, la mia reputazione come artista e la sua bravura, la sua professionale sulla rete è stata la copiata vincente. Casaleggio è una persona che fa strategie di rete, è un ex manager, bravissimo, ha avuto un passato in grandi aziende italiane, sempre sulla comunicazione, e quindi noi scriviamo insieme un paio di pezzi per il blog da 7 anni a questa parte, quindi più di 5-6 mila articoli, mi sento più con lui che con mia moglie, ho fatto un you and me per avere uno sconto sulle telefonate, quindi lui è il lato manageriale, il lato strategico, il lato degli obiettivi, io sono il lato artistico, il lato della faccia, il lato della reputazione, pensiamo addirittura alle stesse cose, questo è drammatico anche per le nostre mogli che non riescono a capire bene che tipo di rapporto abbiamo. Noi dobbiamo cominciare a capire che il nostro lavoro cambierà e ognuno deve fare, ogni cittadino un po' di volontariato, un po' di solidarietà, cominciare a parlare con queste parole, nessuno può rimanere indietro, non è possibile che ogni giorno due persone si buttano dai terrazzi perché non hanno lavoro, hanno dei debiti di Equitalia, non è più possibile, bisogna fare una rete immediata di solidarietà con salari di cittadinanza, togliere le pensioni oltre il 3 mila euro e dare la minima, è un salario garantito per mantenere perlomeno le condizioni umane delle persone, non li puoi prendere, togliere il lavoro, togliere la casa, togliere il futuro, togliere la vita alle persone, assolutamente no, abbiamo bisogno di cominciare a sentirci comunità, queste robe non pensavo neanche di poterle pensare io che prendevo per il culo il mondo, adesso mi trovo a pensare come un evangelista, di parlare di solidarietà, ma in effetti è questa poi, se noi non riusciamo a darci un'identità, cazzo siamo italiani, è una bellissima cosa avere un senso di responsabilità, ma questi sono cittadini che votano degli altri cittadini che entrano nei comuni, nelle regioni entreranno in Parlamento, con le responsabilità del caso, noi troviamo un paese delle macerie di un paese, cercheremo di essere pronti per dire signori la bacchetta manica non ce l'abbiamo, ma vediamo che cosa fare, che cosa non fare più, qui è un paese che continua a spendere soldi in cose assurde, 22 miliardi nel TAV che non si farà mai, circolare le merci, sono da 10 anni che non circolano più col petrolio che va su, riparlare di agricoltura in un altro modo, tecnologica, riparlare del cibo, di cosa mangeremo fra 5 anni, il programma è un wiki, noi abbiamo seguito un po' come ha fatto Obama, le leggi si mettono 3 mesi prima in rete per discuterne, ogni punto del programma va discusso e fissato, noi abbiamo un certo tipo di programma già fatto per le nazionali che riguarda la finanza, l'economia, la sanità, la scuola, tutti i grandi temi, ma sono in wiki, sono in work in progress, chiunque, un maestro elementare ci può dare un'idea per fare la scuola elementare, chi ce lo deve dare, un politico di che cosa? Abbiamo bisogno di gente che sappia cos'è la mobilità in una città, può essere un tassista come può essere un ingegnere del traffico, allora abbiamo bisogno, noi lavoriamo, uniamo intelligenze del mondo, perché la rete del mondo su un problema locale, è fantastica questa cosa, non c'era prima, essere un conservatore è un grande complimento, conservo il buonsenso, conservo la responsabilità, conservo tutte queste cose, l'essere anche onesti, perché guarda che l'onestà deve tornare di moda, noi vogliamo quotarla in borsa l'onestà, noi vogliamo che si crei una domanda e offerta del bene comune, la domanda e l'offerta della solidarietà, parliamo di queste cose qui, un'economia che lascia fuori il 90% delle persone, non è un'economia, è finito un modello, questo capitalismo è finito, chiamiamolo mercato, capitalismo, questo capitalismo è questo, siamo come Willy, il coyote sospesi nel vuoto, siamo tutti lì e nessuno guarda giù, appena guardiamo giù siamo già precipitati, vediamo chi ha fatto il debito, anche c'è stata la stessa cosa a Genova, per un grande parco in centro cittadino, dove volevano togliere il parco e fare tre piani di posteggi auto, c'erano già i penali, c'erano già i contratti, i cittadini si sono opposti, io mi sono opposto, ci siamo opposti tutti, abbiamo fatto una colletta pagato agli avvocati, siamo andati al Tar del Lazio, al Consiglio di Stato, finalmente poi il governo della città sotto elezione ha dato ragione ai cittadini e non si fa più il posteggio, allora come fa? C'erano delle penali, hanno parlato con chi doveva fare il posteggio e le hanno dato un altro incarico, probabilmente con l'inceneritore farà un'altra cosa. Noi siamo condannati a pagare 100 miliardi di Euro di interessi sul debito, che non abbiamo fatto noi, non l'ha fatto il Movimento, i cittadini, l'hanno fatto questi disgraziati che hanno succhiato, negli ultimi dieci anni il debito è aumentato di mille miliardi con i grandi lavori a debito, facendo pagare un chilometro di alta velocità tre volte la Germania e quattro volte la Francia, due volte la Spagna, con queste cose hanno creato il debito, allora i soldi ce li abbiamo, togliamo 15 miliardi per i cacciabombardieri per bombardare l'Afghanistan, mi sembra un'assurdità e cominciamo a non fare uccidere le persone con le piccole medie imprese, il Quirinale nostro costa 240 milioni l'anno, quattro volte Buckingham Palace, abbiamo stipendi di pensioni da 30 mila Euro al mese e questa gente è in televisione a dire i sacrifici che dovremmo fare noi, ma lo capisci che è un'istigazione a delinquere, quindi grandi opere, strade, palazzi vuoti, assolutamente palazzi vuoti per mettere sotto, riciclare i soldi dalla mafia, perché questa gente è collusa con la mafia, è collusa, avevano i soldi fuori, col 5% di scudo fiscale si sono ripuliti i soldi col 5%, tutti i partiti, tutti, tutti e poi devi avere uno che li pignorano la casa Equitalia per poche centinaia di Euro e questi qui si ripuliscono col 5%, ma noi i soldi ce li abbiamo, abbiamo 98 miliardi di evasione fiscale con le concessionarie del gioco d'azzardo in Italia, concessionarie del gioco d'azzardo, hanno evaso quasi 100 miliardi di Euro, sono due finanziarie, tre, potremmo mettere a posto subito le piccole e medie imprese, immediatamente. Ho girato l'Italia con un camper, ma io in mezzo alla gente, non ho visto un politico in mezzo alla gente, ma non ci va nessun politico in mezzo alla gente, lo appendono, oggi è così, io vado lì, mi davano prosciuti, formaggi, mi riempivano di melanzane ripiene, piatti fatti in casa, non regallini, piatti fatti in casa, arrivava la massagna, gli vecchi, gli anziani, i fantastici, è arrivato un anziano mi ha detto voglio la tessera, voglio la tessera, dov'è la sezione più vicina? Allora, hai capito? L'entusiasmo degli anziani è importantissimo, perché hanno capito che è una svolta questa qua, ed è l'unica occasione che abbiamo in Italia oggi, l'unico questo movimento, di mandare a casa questa gente e riprovare a ripartire, campa con uno stipendio, non devono mica morire di fame, uno stipendio adeguato a uno che fa, il ministro, fa il politico seriamente, non l'ho mai detto che non devono guadagnare, noi abbiamo rifiutato i rimborsi elettorali di 1.700.000 che ci aspettavano, non li abbiamo presi, i consiglieri regionali, perché non devi parlare del sindaco, il sindaco guadagna degli stipendi erisori, anche i consiglieri, ma i consiglieri regionali, che ne abbiamo due in Emilia e due in Piemonte, si sono ridotti lo stipendio da 10-12.000 Euro al mese a 2.500 Euro al mese, che è uno stipendio, signor stipendio per un ragazzo di 25-28 anni oggi, quindi l'abbiamo già fatto, quindi quando tu hai uno stipendio buono e tu hai rimborso a piedilista, non hai il gettone di presenza, elimini tutti gli orpelli, dalle tessere per viaggiare, aereo, treno, massaggi, segretari, arrivi con la tua bicicletta, la tua macchina elettrica oppure a piedi o con i mezzi pubblici, quello che ho visto nel mondo, senza autoblu, senza lacche, senza polizia, senza digos, questo allora è un cambiamento epocale e noi siamo quelli, i cittadini sono quelli, vogliono occuparsi un po' della loro città e poi tornare a fare quello che facevano prima, è come un servizio militare, è passione, quando non sei, non c'è carriera, non ci sono soldi, se vuoi rubare fai un altro lavoro, non ti metti in politica. Io non l'ho mandato via nessuno, si è andato via qualcuno e non era del movimento e poi c'è una distinzione mentale, quando tu parli con una persona di 50-60 anni e anche in buonissima fede, in gambissima dentro al DNA del partito e allora cominciano le discussioni interne sulle procedure, delle direttive di fare dei referenti, è finita, diventi un partito, noi dobbiamo essere aperti fuori, parlare con la gente fuori, non interi, chi parla di se stessi sono i partiti, di se stessi sono i partiti. Io ho cominciato col computer, scrivevo c'è qualcuno in ascolto? Così, da solo, ho aperto sto blog aperto, c'è qualcuno che mi può rispondere, sono Beppe Grillo e il primo che mi ha risposto era il mio vicino di casa attraverso il mondo, mi ha risposto, mi ha detto cosa fai alzato alle due di notte? Il mio vicino di casa, da lì poi io facevo le tournée e dicevo devo venire a Torino a fare uno spettacolo, scrivevo c'è qualche torinese che mi dà qualche informazione sulla città e mi arrivavano 30-40 informazioni, c'è un posteggio che è della moglie del sindaco, a caso lo dico così? Prima di arrivare a Torino avevo già la denuncia, parlava il sindaco, mi scriveva se tu dici una cosa così ti denuncio, avevo già le minacce, allora ho detto poi questa cosa funziona, mi denunciano ancora prima, che parli, è pazzesco, fantastico la rete, ma una cosa bella che abbiamo fatto sulla diffamazione che vorremmo fare, perché la diffamazione è chi ha i poteri forti, oggi la giustizia è usata con i poteri forti, se sei un buon avvocato ti salvi, se sei un poveraccio no, quando ti chiedono un milione di Euro per la diffamazione, mettiamo un milione di Euro di caparra, se perdi per il milione di Euro, e la facciamo questa legge qua se ci daranno l'opportunità, perché io avrò una trentina di processi, processi assurdi sulla Val di Susa, perché ho rotto un sigillo e ho portato via dal vento, ho rotto un sigillo, eravamo in venti con 20 avvocati perché siamo entrati in una baita che non c'era più il sigillo, io sono entrato a brindare con questa gente meravigliosa che sono in Ottav, abbiamo brindato e ci hanno denunciato, quindi 20 avvocati, 20 persone, cosa sarà costato? Hanno spostato a luglio l'udienza, quindi due udienze, tre udienze, cosa costerà la società? 20 persone con 20 avvocati per rottura di sigillo, bastava un giudizio di pace, una multa, pagavamo la multa, è tutto così, abbiamo 3 milioni di cause in piedi contro la Gran Bretagna che ne ha 300 mila, abbiamo 150 mila avvocati, non ce l'ha tutta Europa 150 mila avvocati, ogni anno aumentano del 15%. Grazie a tutti!